Nelle ultime ore si continua a parlare Febbo di questi rifiuti che potrebbero arrivare in Abruzzo dalla capitale per il trattamento, però la Regione sta valutando i pro e contro, lo ha detto anche ieri ai nostri microfoni il sottosegretario raggiunta regionale Mario Mazzocca, qual è la posizione del centro-destra, in particolare di Forza Italia? La Regione sta valutando un incremento di rifiuti da trasportare da Roma in Abruzzo, perché con un emendamento di cui il Consiglio era stato tenuto all'oscuro, presentato il 12 dicembre durante il Consiglio, già si era prorogato un accordo del 2014 che scadeva il 31 dicembre 2017, che prevedeva il trattamento di rifiuti provenienti da Roma fino al 31 dicembre di sei mesi. Ma non solo c'è stato quello, c'è stato anche il raddoppio, perché siamo passati a 300 tonnellate giornalieri, quindi l'assessore Mazzocca deve dare giustificazioni di questo accordo di cui era tenuto segreto il Consiglio regionale. Adesso si sta trattando un'altra cosa, cioè il rifiuto da parte della Regione Emilia Romagna di ricevere i rifiuti da Roma e quindi Roma che cerca un maggior incremento in Abruzzo. Io credo che l'incremento non possa essere concesso, se non dopo che venga giustificato questo incremento e soprattutto non ci sia certezza di quali rifiuti ci vengono portati e soprattutto quanto sia la scadenza, la durata, perché non è che poi Roma e chi l'amministra può pensare che questo avvenga per sempre e quindi ingolfare il nostro Abruzzo, dei tir, dell'immondizia, della raggi che percorrono le nostre strade. Quindi noi stiamo per una riflessione e soprattutto vorremmo capire perché questo governo regionale ha tenuto all'oscuro i cittadini abruzzesi di ciò che già stava facendo già dal 12 dicembre. Si parla però di trattamento rifiuti e non di smaltimento. Trattamento di rifiuti significa centinaia di mezzi che arrivano da Roma, che percorrono le nostre strade, che entrano nelle nostre città e producono anche esso dei problemi e poi vorremmo capire se quei rifiuti, quella parte del trattamento di rifiuti, che fine fanno. Noi di questo non abbiamo assolutamente certezza e vorremmo capire dove vanno perché contestualmente a questo aumento e a questa proroga c'è stata anche la triplicazione delle capacità delle nostre discariche e questo ci risulta dubbio.